Sono stati assunti altri sette lavoratori nell'Exestir di Battipaglia, tutti stagionali, quindi a tempo. Il tutto dovuto a questi mesi di crisi dei rifiuti, dove l'impianto di Battipaglia ha difficoltà ad assicurare il regolare svolgimento delle attività. Resta infatti difficile capire in anticipo quel che può accadere al termovalizzatore di Acerra, tra linee guaste ed in manutenzione. Ecambiente, la società provinciale che gestisce l'Exestir cerca di fare la sua parte, provando a limitare le criticità per cercare di garantire il regolare svolgimento delle attività all'interno dell'impianto. L'amministratore della società, il commissario liquidatore Vincenzo Petrosino, ha assunto altri sette operai che da tempo, nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti, attendono una chiamata a lavoro. Una procedura di selezione di lavoratori stagionali, con priorità accordata agli operai presenti nelle liste certificate, che sono quelle dei lavoratori dei vecchi consorsi di Bacino e della società da loro partecipate. Lavoro a tempo, che al massimo si protrarrà fino alla fine di settembre, ma che concede comunque una boccata d'ossigeno e agambiente, eppure al capo impianto l'ingegnere Vincenzo Apicella.